Marito, mammone, mica lo puoi sposar, lui sotto al piumone hai voglia stimolar, da mamma, da mamma, voleva sempre andare, perché da lei mangiava figlietti e baccala, da mamma, da mamma, ora ci puoi restare, perché sotto al piumone adesso c'ho da fare. Vi fare quello che faccio io, se io faccio pa-pa-pa-pa, passo a destra, hai capito? Vai. Ma lei non sta facendo niente. Continverò. No! No! Fatto! Il sole è il suo bucante, non può dire niente Ma se la musica ricordo il tuo corpo a fianco e questa è quella vicente Fabiore quando vieni fai il budino? Io lo chiamiamo, dai, due, uno, vai! Vai, fai il budino Un budino? Te lo faccio fare io, lo guarda eh! No, no! No, no, no! Come sto a budino? Ecco Come sto a budino? Come sto a budino? Andiamo a cose serie, dai! Cose serie, purtroppo l'Expo è sempre di gran moda Guardate qua, bufena, Expo Acerbo, si dimette medaglia Battuta facile? La faccio? La faccio? Non era maturo Rinascerò Cerbo a primavera Questa morica In cui soffiava gina E tutta questa gente Ricordiamo che è uscito anche l'album di Suor Cristina Questo è importante Tra l'altro ci dove lo troviamo Andate in chiesa e vi confessate Se il sacerdote vi assolve in omaggio vi dà Ovviamente la casa discografica non è la Virgin Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ed entra dentro e canta Stupendo! Chiudiamo così Signori Viamo la sigla Ah scusate stop Ci vediamo lunedì Lunedì, lunedì sono gli ultimi due giorni di edicolo Loredì e martedì Perché poi mercoledì cominciamo con la radio Sigla! Eccolo qua Eccolo qua l'accenno di Bruno.